La sfida di questa società è quella di dare servizi sempre più efficienti ai clienti della provincia di Frosinone. Stiamo implementando il numero di impianti in telecontrollo, siamo partiti con una cinquantina di impianti principali, più importanti, partendo dalle sorgenti idriche, però non trascurando anche qualche sollevamento fognare e qualche depuratore che merita particolare attenzione. Con questa nuova digitalizzazione gli utenti potranno, contattando il call center commerciale, risolvere tutti i problemi di natura commerciale. La sala operativa sono i nostri occhi sul territorio, il punto che ci consente di osservare cosa succede sulla rete acquedottistica che porta l'acqua a tutta la provincia di Frosinone. Ha il compito di monitorare istante per istante gli ordini di lavoro che giungono, fare una cenita e una scrematura di quelle che sono le criticità e di conseguenza avviare tutte le procedure operative necessarie a poter ingaggiare il tecnico in campo. Sempre tramite mezzi informatici, tablet che ricevono il collegamento con la sala operativa. Quindi il primo step è quello di mettere in sicurezza e quindi garantire l'eculumità delle persone o quantomeno nel caso di mancanza d'acqua interpretare subito se è qualcosa legato o a fermo degli impianti e quindi monitorato anche grazie ai sistemi di telecontrollo o è necessario intervenire con ditte specializzate. Quindi diciamo che gli standard di servizio sono in linea con quello che è il deliberato dell'autorità nazionale e soprattutto come tra i migliori standard di servizio erogati sul territorio nazionale. Rimarranno sul territorio due grandi sportelli commerciali, una a Frosinone e una a Cassino, che avranno un orario di apertura molto più ampio. Saranno aperti con orario continuato dalle 8.30 alle 17 e anche il sabbano. Di conseguenza, nel momento in cui avviamo tutte queste procedure su cui Acea da tempo ci lavora per cercare di efficientare il più possibile i processi, cerchiamo poi di avviare quanto prima, secondo gli standard dell'appaltone che Acea ha avviato, un appalto unico dove mettiamo in campo nei tempi censiti dalla carta dei servizi, tutte le forze operative in campo per risolvere la problematica. Il nuovo sito permetterà da casa di fare tutte le operazioni di qualsiasi natura, avere a disposizione tutti i dati di cui necessita, bollette, estratto conto, contratto e quanto altro. Con questo punto di vista noi riusciamo a monitorare quello che succede e a indirizzare al meglio l'attività degli operatori sul campo. A disposizione è anche un'app? Sì, questa è stata messa, quindi anche da telefono cellulare sarà possibile fare tutte queste attività. L'app sarà Maiacea ed è già da oggi operativa. Sì, questa è stata messa.